Incontra Monica Passini, Executive Director di Business Network International Italia. Dal vostro osservatorio di livello nazionale, com'è la risposta del nord-ovest italiano in generale e della Liguria in particolare nei confronti dell'economia collaborativa? Buongiorno a tutti. Allora, prima della risposta, in Italia abbiamo proprio adesso a novembre fintaggiato il traguardo di 10.000 membri. Quindi ci sono 10.000 professionisti e imprenditori in Italia che hanno scelto l'Ini come strumento e metodo per creare relazioni con altri professionisti e imprenditori e aumentare le loro giovani affari. Io in particolare mi occupo dello sviluppo di un'area chiamata Piemonte Sud, quindi Puneo Asti Vercelli, di Alessandria e dell'Imperio Sabonano. Su questo territorio ci sono 1.300 persone oggi che stanno sviluppando i gruppi di DDI che sono membri di questa organizzazione e immagino che ce ne saranno altre tanti nei prossimi anni. La Liguria è l'ultima e la più recente che abbiamo deciso di fare. Ad oggi abbiamo dei capitoli, noi chiamiamo così gruppi di DDI che sono gli spiuti, su Sabona, su Millesimo, su Imperia. Oggi inauguriamo il capitolo B&I Gallinari d'Albenga. Nelle prossime settimane andrà a chiusura la fase di conferenza della squadra di Sanremo. E poi nei prossimi anni ci sono tanti altri progetti, alcuni. C'è il capitolo B&I maestra Laloano che è in fase di preparazione. e ci sono altri settori in qualche modo che si stanno iniziando proprio questa settimana a mettersi insieme.